Benvenuti su Italia Gossip Express. Prima di entrare nei dettagli degli avvenimenti, vi chiediamo gentilmente di supportarci lasciando un mi piace al video e iscrivendovi al nostro canale, è davvero importante per noi. Grazie. Da oltre due anni, il mistero avvolge il caso della scomparsa di Liliana Resinovic, lasciandoci con più domande che risposte. Nell'ultima puntata del noto programma Quarto Grado, famoso per affrontare casi irrisolti, è stata introdotta una nuova prospettiva grazie alla sorprendente presenza di Claudio Sterpen. Quest'ultimo ha sostituito l'ospite abituale, Sebastiano Visintin, portando con sé una serie di documenti promettenti che promettevano di far luce sugli eventi. Durante la discussione, l'attenzione è stata focalizzata sugli alibi di Sebastiano, il marito di Liliana, e di Claudio, il suo amante. Sebastiano ha fornito un alibi che lo vedeva nel suo magazzino di coltelli, impossibilitato a essere raggiunto al telefono per tre ore il giorno della scomparsa di Liliana, supportato da un video registrato con una GoPro che lo mostrava in bicicletta. Sterpen ha condiviso le sue teorie su cosa potrebbe essere realmente accaduto nel magazzino durante quelle tre ore, suggerendo la possibilità di un incontro tra Sebastiano e Liliana seguito da un confronto fisico tra i due, ipotesi alimentate anche dai segni sul viso di Liliana. Durante la trasmissione, Claudio ha espresso forti dubbi sulla sequenza degli eventi, sebbene abbia poi attenuato le sue affermazioni, forse rendendosi conto della loro gravità. E ora vi chiediamo, secondo voi, chi sta mentendo? Scrivete un commento sotto al video con la vostra opinione.